Basta! È una normalizzazione del calcio! Parte anche la prima batteria della categoria G2. Quasi 400 gli atleti al via quest'oggi e visto la grande partecipazione sono state sdoppiate ben 5 categorie su 6. Ancora gruppo compatto, in testa vediamo le maglie di Travagliato, Team 2004, Vanotti, Camignone, Ronco e Albano. E ora l'arrivo anche di questa batteria. Al primo posto troviamo Laudani Michele del Team 2004, davanti a Cianfrini Matteo dell'Albano Sant'Alessandro, Tironi Nicola dell'Avanotti, Gozio Alessia dell'Aronco e Zini Tiziano della Travagliato. Per la classifica femminile troviamo Gozio Alessia dell'Aronco in testa, seguita da Udischini Beatrice della Spring Gedi e Marini Michela della Camignone.